Hola, buongiorno, nuova giornata e oggi che è inizio settimana io sono qui alle 9 di mattina e mi trovo già fuori dal mio hotel che è questo qui Leden Riviera e volevo farvi vedere la vista mozzafiato perché siamo qua un po' su in collina e è bellissimo e niente adesso mi sposto al sole che è coccente anche oggi appunto sono le 9 adesso è una cosa super super coccente e vi faccio vedere da questa terrazza qua panoramica appunto la vista che è bellissima io non avevo la camera da questo lato però ovviamente me l'avevano specificato guardate che bello siamo a Citrezza e ci sono i faraglioni ce ne sono altri che si vedono là dietro le case e appunto questa è tutta la terrazza dell'hotel e si sale da qui sotto dalla strada che passa il mare poi si sale qualche tornante si arriva subito qua e me l'avevo consegnato Ornella questo posto questo hotel infatti è veramente bello anche dentro semplice e curato sono trovato benissimo e per 45 euro notte adesso che è fine luglio l'ho trovato comunque ottimo insomma perché qua tra i paesi comunque paesi piuttosto turistici insomma penso che sia un prezzo buono c'era tutto anche la colazione niente l'hotel è qua è così appunto semplicissimo e c'è tutta la terrazza e niente adesso adesso quindi proseguo con la con la giornata dato che è un giorno feriale pensavo di andare un pochettino in città ma tipo a Taormina comunque non altre città perché si cuoce bisogna comunque avere il contatto con l'acqua come ieri bisogna riuscire avere la possibilità di entrare in acqua perché è veramente micidiale e quindi pensavo Taormina poi Ridiscendo o Giardino di Naxos anche e guardate che bello anche qua c'è tutta la parte che va verso la piscina che è lì dietro si passa anche di qua e c'è appunto tutta la piscina che si intravede lì dietro e si fa tutto questo passaggio per arrivare al parcheggio e niente vado un po' sopra verso Taormina e poi pensavo di Ridiscendere pensavo di Ridiscendere appunto di passare poi da sotto ma insomma man mano vi spiego se riesco a farlo durante la giornata ma man mano vi faccio vedere il giro che pensavo perché comunque devo tornare dall'altro lato dell'isola e sono centinaia di chilometri quindi ecco qua poi semplicemente siamo nel parcheggio eccoci qui e quindi adesso pronti che si va per una nuova giornata a dopo eccoci qui ecco mi è arrivato nel centro di Taormina ho parcheggiato giù sotto nei soliti parcheggi che un po' costicchiano perché un'ora e tre euro e dieci poi raddoppia subito alla seconda ora però c'è anche la navetta gratuita che porta fin qua adesso voglio fare due passi poi prendere anche un altro mezzo un'altra cosa quindi qua è la prima volta insomma la voglio studiare ma la voglio studiare un attimo ho visto che ci sono dei resti qui sotto di età ellenistica è molto molto bello e la sembra molto graziosa tutta bella raccolta e adesso appunto provo a fare un giro e vediamo vediamo un po' appunto perché non qua appunto è la mia prima volta quindi qua non conosco non mi so orientare e oggi sono da solo non c'è ornella non c'è nessuno quindi se torno a cavarmela da solo un po' come gli altri giorni mamma che carina anche questa via è bello che c'è l'alternanza di negozi tipici come questi grandi marche famose solite oh mamma c'è anche Kiko eccolo qua oh ma Kiko c'è ovunque si sono infilati ovunque belli belli questi scorci ah però hai capito miseria infatti ma è un negozio enorme è un negozio enorme rispetto anche a tanti altri ma pensa a te tacchietta vediamo un po' belle screma carinissima poi adesso qua se devo dire che si sta benissimo all'ombra una cosa magnifica bello bello tutto il corso appunto all'ombra ma poi quanti negozi fighettini mamma mia lusso ma che contrasto bello poi belli gli scorci le viuzze bello ecco anche qui negozietti ceramiche artistiche anche qui e poi quanti dettagli le case bella anche questa ricche ricche di dettagli i ricami anche questa eh ma ci sono un sacco di piccoli belli qua molto grazioso eccoci di qui veramente carina ogni tipo di dettaglio qua delle delle casette dei balconi mi piace molto poi ancora marchi marchi di lusso qua cioè di lusso insomma soliti poi negozi marchi che si trovano un po' ovunque anche molto chic ah ecco ecco ad esempio ecco anche le cover è vero le cover moschino quelle degli orsetti mini cornette sì questa qui 40 euro ma boh cioè sì non so carine finché vuoi anche anche l'anatra 49 e le borsettine sì 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 sono carine però mi sembra fin troppo altrune si paga si paga il marchio beh bello anche sto palazzo miseria e poi arriviamo lì alla piazza carino carino comunque l'unica cosa forse che non mi piace ma in generale non qua eh c'è che in generale l'unica cosa che anche qui ho appena visto nei bar che che prendono il caffè il cappuccino quello che è e poi chiedono un bel bicchiere di acqua fresca bella fredda no lo so voi ma a me sinceramente fa proprio solo l'urto del vomito possiamo dirlo terribile l'acqua fredda o il succo non so freddo dopo dopo il caffè o il tè va bene questo insomma impressione mia qua si usa così e io non mamma mia rimango sempre abbastanza sconvolto comunque godiamoci qualcosa di più bello rispetto a questi discorsi qui adesso voglio affacciarmi perché leggevo che è proprio la terrazza panoramica che offre una super vista oh che bel venticello oh che bello bellissima questa piazza tutti i punti qua dove guardare non c'è un punto che non sia splendido continuo a guardarmi attorno adesso lascio guardare anche voi smetto di parlare come dico altre volte lascio parlare le immagini perché tanto c'è un po' di vento quindi non mi sentirete neanche meglio così è meglio che c'è vento perché sennò noi soffochiamo è meglio che ci sia questo bel venticello e quindi guardate guardate voi che bello andiamo ad affacciarci mamma mia c'è uno yacht che non so se chiamarlo yacht ma un yacht transatlantico è enorme c'è già quello là sulla destra è grosso quello adesso non si capisce veramente enorme si vede l'etana che è là c'è un po' di fumo in questi giorni sto vedendo fa un po' di fumo eccolo eccolo si è girato cioè si capisce quanto è abnorme si penso si capisca è uno di quelli che si vede raramente che vedeva in Sardegna così anche sul lago devo dire che c'è un quelli enormi sotto Peschiera Peschiera del Garda mamma mia rispetto alle altre marche rispetto alle altre C'è un gossetto. 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 C'è un gossetto.